Divertimento alla grande a Miragica, il parco divertimenti alle porte di Molfetta. Solo a Miragica potrai sentirti un folletto o un gigante. È una magia che si realizza grazie ad una fantastica scenografia in cui la prospettiva gioca su elementi enormi o piccoli che escono dalla tua normale esperienza visiva. Tante straordinarie e divertenti sono le attrazioni di Miragica, esperienze da non perdere e da raccontare agli amici. Un esempio? Il Senza Fiato, che in pochi secondi ti proietterà ad una velocità di circa 80 km all'ora. Miragica e adrenalina pura anche sulla torre di caduta, perbacco. In questo caso l'esperienza è quella di precipitare da un'altezza di 47 metri. Brividi, brividi e ancora brividi tutti da provare sul disco coaster Gira Bugia, una grande piattaforma rotante che oscilla in tutte le direzioni e regala tantissime emozioni. Particolarmente spettacolari e divertenti sono le attrazioni acquatiche. Il Flume Ride Strozza Gorgo, con il percorso a bordo dei tronchi e una salita di 14 metri e le rapide mangiabiglie, con il gommone che viaggia in balia di una corrente molto turbolenta per farsi rapire dalle acque e dalle emozioni. Gli spettacoli di grande fascino. Ballerini e stuntment ti avvolgeranno con fantastiche atmosfere presso il Gran Teatro e nell'area Stunt Show. Diversa attrazione, differente emozione, ugualmente tutta da provare, è quella che ti assicura il cinema 4D, la scatola magica. Tra un'esperienza mozzafiato e una vertigine mai provata finora, trovi il giusto spazio riservato al ristoro. Anche le proposte food di Miragica soddisferanno pienamente i tuoi desideri. Nel ristorante e pizzeria Taverna del Gigante potrai gustare pietanze realizzate da chef locali oppure per un rapido spuntino potrai firmarti presso il fast food La Corte dei Sapori. Grande novità a Miragica per la stagione 2012. Oltre a raduni, sfilate, concerti e notti bianche, le straordinarie novità sono Condor, la nuova attrazione alta 30 metri capace di farti provare l'ebbrezza del volo, e il nuovissimo entusiasmante spettacolo con gli Zoppis Stuntman. Miragica, il parco divertimenti della Puglia con attrazioni, cinema 4D, stuntman, ballerini e tanti eventi ti aspetta a Molfetta.